ciao addicted bentornati e bentornate o benvenuti e benvenute sul nostro canale che è collegato al gruppo facebook omonimo box addicted dove condividiamo offerte anche esclusive su box singole in abbonamento di vario genere quindi di bellezza di cartoleria di libri di cibo e così via se volete andare a dare un'occhiata vi lascio il link nel box informativo oggi sono in compagnia dell'anteprima della box di novembre di degusta box un abbonamento che non so se conosciate nel frattempo metto via un po di cose che in sostanza è appunto un abbonamento di cibo che vi fa avere in anteprima alcuni prodotti che escono poi a breve sul mercato li troverete poi negli scaffali il costo è di 15 euro e 99 ma con il nostro codice box addicted che vi lascio comunque nel box informativo potrete averlo alla metà quindi a 7 euro e 99 allora che cosa c'è nella box di novembre ora vedrete anche un esempio di tutti i prodotti per capire il valore reale va bene qui abbiamo trovato un po di foglietti informativi per esempio qui c'è una cosa importante per i black friday e tra l'altro oltre al nostro codice vi dividerò anche il lo speciale codice per il black friday e poi ci sono appunto dei polletti informativi credo su alcuni prodotti che ci sono all'interno questo mese che per adesso il poggio al lato e poi c'è questo foglio che vi dice praticamente tutto il contenuto della degustabox poi con anche i vari concorsi che potrete andare a vedere per vincere le box gratuitamente allora io partirei subito con il prodotto cosiddetto del mese poi metto tutto sul tavolo vi faccio vedere che è questo cioè sono i croissant di stefani da 2,99 che costano appunto di 1,99 e sono super sfogliati 24 ore come vedete di lievitazione naturale una novità vediamo quanti sono sono 6 per 50 grammi e questo è il primo prodotto poi vado avanti cosa c'è c'è interessante roberto gourmet ci sono i grissini torinesi rosa alla barbabietola molto molto interessante due confezioni vi dico questi quanto costano se li trovo ve lo dico eccoli qua un euro e 59 e sono anche adatti ai vegetariani perché logicamente sono la barbabietola e non contengono prodotti che possono dare fastidio a chi segue quel regime alimentare poi abbiamo della barilla gli spaghettoni al bronzo 12 minuti una confazione una confazione una confezione scusatemi da 400 grammi che corrisponde a un euro e 35 e alla appunto trapilatura al bronzo per cui è più ruvida e potete quindi usarla con dei sughi un po più corposi come per esempio il ragù per esempio o dove vado qui che non so dove andare allora vado subito alle mie amate frutte la crazy mix le frutte la crazy mix costano un euro e 29 sono naturalmente delle gelatine senza glutine con succo di frutte aromi e colori naturali quindi senza artificiali questo è l'altro prodotto poi ancora di ricola abbiamo si sono un po schiacciate le caramelle originali benefica bontà con le alpi svizzere e senza zucchero questo il costo di questo pacchetto di 2 euro quindi qui già abbiamo superato abbondantemente 7 euro e 99 ma vado avanti andiamo ai vitors o vitors allora qui abbiamo il boero quattro pezzi in realtà all'interno della box potrete trovare tre varianti differenti come potete vedere dal foglietto che sono quindi il classico limoncello crema whisky io ho trovato con le ciliegie e il liquore che sarebbe la classico e costano un euro e 49 questi qua ce n'è uno appunto per box ancora come sempre un sacco di cose lo zenzero macinato firmato drogheria 1880 e due confezioni in realtà dovrebbe esserci qui c'è un errore perché dovrebbero esserci una di curcuma e una di zenzero in realtà io non ho trovati due di zenzero ma me va benissimo perché comunque è una spezia che utilizzo il costo di ognuno e di 0 e 99 centesimi accusatemi c'erano due di frutella crazy mix non c'è scritto qui non so se sia un caso ma ne ho trovate due e poi andiamo diciamo le cose più pesanti e infatti per portarla su oggi ci ho messo due ore perché mi facciamo la schiena molto pesante al corino scherzo non pesa tanto però comunque si sentiva che c'erano delle bottiglie allora questa qui c'è anche un fogliettino lì lo troverete nella box heaven merenda e un latte d'avena 100 per cento senza succhiere aggiunti al gusto di cacao con vitamine b2 b12 e d senza lattosio quindi questo va bene per tutti anche per gli intolleranti molto interessante volevo provarlo ed eccolo qua infine abbiamo due altri prodotti uno penso di capire che sia una passatella di pomodoro e infatti è la passata di pomodoro agromonte siciliana con ciliegino da un euro e 79 e questa la confezione da 520 grammi quindi se non fate il passata a casa questo può essere un oggetto un oggetto un prodotto che vi posso dire poi no ragazzi vabbè questa settimana che io ho un mal di stomaco perché ho esagerato con il piccante che io lo amo comunque di deve lei naturalmente abbiamo qui la salsa di messicana senza conservanti ma potrete trovare anche la salsa jalapeno mamma mia la salsa cheddar e la salsa guacamole il costo è tra i 3 euro e 49 e 3 99 a seconda di quella che troverete è una linea tex mex nuovissima lanciata da deve lei e che a me piace molto perché prendono molte salse di questo marchio ed è naturalmente 300 grammi di salsa allora sono contenta naturalmente però dovrò aspettare di stare un po' meglio prima di mangiarla perché altrimenti qua finisca all'ospedale allora ricapito lesion di tutte le cose che abbiamo trovato all'interno di questa box la salsa messicana dei play i due zenzero marinato il roberto i torinesi rosa le boero vitors io le ho trovate nella versione originale con ciliegia e con liquore le ricola erbe delle alpi rodi l'originale scusate mi stanno intorcando come sempre le gli spaghettoni barilla tra filati al bronzo la merenda all'avena di heaven senza il lattosio come vi ho detto la passata di pomodoro agrumonde siciliana che non si vede vedo se intanto poi vi faccio la foto di per me mi perdonerà una drogheria se la copro poi abbiamo ancora i due fratelli e infine il croissant che era il prodotto principale super sfogliato 24 ore di lievitazione naturale di b stefane quindi tutti questi prodotti che vengono riassunti all'interno di questo foglio costano 15 99 con l'abbonamento classico ma fortunatamente con il nostro codice box addicted lo potete avere a 7 euro e 99 io vi ringrazio per averci seguito ci rivediamo con altre box sempre interessanti e vi saluto e alla prossima se ci volete seguire iscrivetevi nel nostro gruppo box addicted e seguiteci su youtube e su instagram grazie alla prossima ciao ciao ciao